Questi fondi verranno impiegati nell'inserimento, nel pagamento appunto a queste scuole calcio di questi ragazzi, di questi peradolescenti. Quindi sono individuati questi bambini, questi adolescenti dalle parrocchie, quindi le parrocchie come sapete bene conoscono bene il territorio, soprattutto in questi territori periferici e quelli che abbiamo visto che hanno questa passione, questa spinta e questo desiderio anche di riscatto, di ripartenza nella vita personale, anche nella famiglia, verranno inseriti in queste scuole calcio. Questo è un messaggio per la nostra città, non è una cosa scontata, magari io potete pensare che ho fatto la mia carriera e non ho bisogno, ma ciò dei miei compagni che iniziano a rinunciare a una cosa del genere li porta tanto onore, quindi è un messaggio che diamo alla nostra città, ai nostri tifosi, per dimostrare che noi ci teniamo tanto al Palermo. Grazie.